ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione letture vi saluto tutti con tanto tanto affetto e vi ringrazio soprattutto gli abbonati che stanno sostenendo questo canale chi vuole si può anche abbonare guardate sotto vicino al tasto iscriviti gli iscritti da tanto tempo sempre fedeli così carini calorosi grazie di vero cuore saluto anche i nuovi a chi si trova qui ad ascoltarmi per la prima volta vi invito comunque ancora tutti quanti chi non l'avesse fatto a fare l'iscrizione a questo canale e ad attivare la campanellina cliccando poi su tutte vi ricordo anche di leggere la descrizione del video perché spiego insomma il video appunto spiego il lavoro che c'è specialmente in questo video qua e ci sono anche le informazioni per parlare con me eventualmente andate sul sito quintadimensioneletture.it dove ci sono gli approfondimenti dei video ma non solo anche altre meditazioni altre cose per voi importanti esercizi e tante altre cose il sito lo potete usare anche per acquistare direttamente i servizi insieme a me fate un giro quindi sia nella descrizione del video che nel sito web vi ricordo tutti quanti anche coffee.com dove potete trovare il modo di farvi rispondere da me ad una domandina veloce e semplice a fronte di una piccolissima donazione poi ovviamente ci sono anche gli accessori gli oracoli che creo io fatevi un giro quando avete tempo di andare a vedere un po' tutte queste novità tutte queste cose che vi offro allora oggi visto che siamo in un periodo in cui mi stanno molto tramite sempre mie meditazioni mie canalizzazioni mi stanno molto spingendo a darvi delle protezioni quindi io seguo sapete che questo canale segue principalmente proprio il mio lavoro nel senso che io sento quando per il collettivo c'è bisogno di questo o di quello quindi non ho scalette predefinite o titoli tra virgolette ingannatori diciamo così che poi uno apre il video no questi titoli sensazionali e poi molto spesso c'è tutt'altro qui è proprio diretto canalizzato per quello che serve al collettivo quindi non c'è mai troppa preparazione prima nel senso di andare a fare la scaletta no è tutto molto immediato quello che arriva e quindi eccoci qua oggi ancora con un altro rituale per voi di protezione comunque sempre con la luce oggi andiamo con l'altissima potenza delle rune di cui parlato poco qua in realtà nel canale perché ho tantissimo rispetto nel senso che la runa chi veramente la conosce sa che non è un argomento con cui fare le chiacchiere le rune sono potenti veramente quindi invito comunque tutti chi volesse diciamo lavorare con le rune di andare a studiare ma veramente ma veramente ma veramente bene di non fare da soli perché la runa è stra potente quindi attenzione a giocare con le rune o inventarsi non so rituali o cose abbiamo tantissimi modi se vi piace se volete fatemi sapere nei commenti perché ve le approfondirò i discorsi con le rune insomma è una cosa molto personale che io uso in modo molto personale mio privato con tanto studio dietro sempre oggi mi è arrivato di darvele anche a voi le rune non vanno esposte alle persone il vostro sacchetto personale con le rune non va fatto toccare non va fatto vedere ci vuole una veramente un rispetto è sacro proprio anche perché la runa è potentissima quindi ripeto la runa esige nel modo più assoluto tanto studio anni prima di poterle usare mi raccomando perché ci si fa veramente male con la runa è quindi allora detto questo oggi infatti userò per farvi vedere qualche runa un altro sacchetto che uso appunto eventualmente ecco per farvi vedere non sono le mie personali cioè sono le mie sì ma non sono quelle che uso per lavori sono comunque ecco così per farle vedere perché la runa personale si carica veramente tanto della vostra energia c'è un'attivazione da fare per le proprie rune che userete voi se proprio le vostre quindi non sono quelle mie non le vedrete mai queste sono proprio per voi allora oggi che cosa vi faccio vedere una runa di protezione molto conosciuta vi ho dato poco tempo fa anzi vi metto il link sotto della protezione del campo energetico che è proprio una diciamo un decreto da recitare qui abbiamo insieme alla nostra amatissima genesa anche un rituale che potete fare che è una cosa in più con la genesa però potete farlo anche senza genesa inseriremo anche delle parole magiche per voi di protezione quindi questo video parla tutto di protezione siamo sotto attacco delle forze oscure molto spesso quindi vi invito anche a fare il decreto di cancellazione del patto oscuro continuate a farlo continuate 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 c'è in questo momento un grandissimo attacco agli operatori di luce agli star seed e a molte persone che stanno nella diciamo nel percorso del risveglio quindi attenzione a non mollare perché più ci si risveglia e più questi oscuri tentano sempre fino alla fine insomma di farci deviare la strada ok e di andare lontani dalla luce cosa che non deve assolutamente succedere poi vi metterò eventualmente dei messaggi divini alla fine però ascoltate bene adesso tutto il video non saltate di qua di là perché avete fretta perché se no non è per voi questo e tra l'altro non funziona con le rune bisogna avere un grande rispetto una grande attenzione e funzioneranno a chi davvero lo merita un po come tutte le cose che propongo in questo canale a chi ci mette veramente l'impegno e il cuore vero perché sappiate che non si può mentire non si può mentire alle forze della luce alle energie agli dei in questo caso sapete che abbiamo odino il grande dio odino che scoprì le rune dopo nove giorni appeso all'albero vi metto in sovraimpressione adesso quando carico il video poi la una proprio oggi lavoreremo con algiz che algiz è una runa veramente molto potente per la protezione ve la do singola ma abbiamo anche le being runes che sarebbero le rune poi messe più più di una runa insieme incastrate se volete ve le farò vedere anche nei prossimi video per avere anche più protezione e più effetto una runa con l'altra va bene questo lo possono fare tutti quanti non sostituite le cose che vi dico si può fare per quello quell'altro con quel colore con quell'altra cosa fatelo come lo dico io non c'è fretta di farlo quindi se non avete quando vedete il video le cose ve le andate a prendere con calma ok la runa algiz dona tanta protezione tanta fortuna vi può aiutare anche a risolvere ogni contrasto ogni problema vi fa trovare anche la forza proprio la forza personale per affrontare le cose le situazioni allontana gli influssi negativi vi allontana i nemici sapete che una volta i guerrieri vichinghi la incidevano per esempio nelle loro spade la incidevano proprio nei loro nei loro insomma equipaggiamenti per fare le lotte per fare le battaglie la incidevano sugli elmetti se la incidevano addosso e soprattutto ripeto sulle spade sugli oggetti che usavano poi per combattere assicurandogli proprio la vittoria ci sono anche altre rune per la vittoria ma algiz dava molto anche la protezione cioè della serie di non essere feriti a morte per esempio no allora dicevo allontana anche gli influssi negativi molto vi aiuta anche piano piano a risolvere anche i problemi piano piano va bene nella proprio nella vostra realtà quotidiana vi dà una protezione fisica la protezione spirituale e sono molto importante queste cose aiuta anche ho letto tantissimi libri e ho anche dei manuali molto belli se volete il prossimo video però ve li faccio vedere perché qui voglio canalizzarmi solo su questo adesso pare che sia stata usata molto positivamente anche per problemi legati agli occhi agli occhi proprio cataratte occhi problemi alla vista insomma ecco e problemi anche relativi a ferite cioè si cicatrizzano prima insomma tutte queste cose qua allora la potete usare anche senza la genesa quindi non me lo richiedete perché non rispondo a chi dice se non ho la genesa perché già l'ho detto nel video quindi vuol dire che uno non ascolta e chi non ascolta non si merita di fare le cose alla fine perché l'impegno che premia ok quindi se mi fate le stesse domande e io so che ho già detto nel video non vi rispondo perché esigo attenzione e serietà e rispetto va bene quindi chi togliamo non ha la genesa faccia ugualmente quello che gli dico va bene in questo modo per la genesa lo facciamo dopo allora intanto aspettate che vi prendo allora le cose allora eccola qua questa è la runa algiz questa è la runa algiz vedete ha una linea verticale e due che vanno una da sinistra in giù e una da destra in giù questa è la runa algiz e comunque poi in fase di montaggio ve la metto un pochino più grande così la vedete un attimo qualche secondo insomma impressione ma basta andare anche a cercare su internet la vedete insomma la runa qual è algiz appunto ci sono anche dei mantra legati alle rune cantateveli voi per esempio ci si fa un po di concentrazione come si fa questo rituale un po di concentrazione bene quindi respirazione molto tranquilli e poi si può anche intonare la pensiamo un attimo la visualizziamo nel terzo occhio possiamo dire anche per esempio algiz qualcosa del genere cioè la chiamiamo no la cantiamo qui sono favoriti quelli che comunque ma o cantano mantra che cosa gli viene meglio anche la vibrazione un po come chi fa om no che poi dopo tanto esercizio riescono anche a vibrare la o la m no dopo un po si riesce a modulare la voce allora la runa algiz potete recitare questa parola magica anche chi non ha la genesa si segni questa parola che vi scrivo ora ed è questa per la protezione totale della vostra persona in usum converto algiz in usum converto algiz in usum converto algiz le parole magiche si dicono dalle tre le cinque volte per tre volte al giorno potete dire anche più di una formula no come dice cristiano tenka ovviamente che è l'autore di questa formula è stato lui ha scritto tanti libri sulle parole magiche sulle bacchette magiche su tante cose insomma bravissimo cristiano tenka e questa formula è la sua questa è una formula potenziata ovviamente va bene anche solo algiz nel senso se uno se la canta agisce ogni tanto la pensa durante il giorno va bene è importante altra cosa le rune si possono anche tracciare no sulla mano insomma dove volete sulle gambe sulla schiena sulle spalle sui polsi no col rosso mi raccomando con il rosso adesso non me la faccio per motivi miei ma si possono fare tranquillamente un consiglio non ve le tatuate mai mai perché potrebbero danneggiarvi nel tempo le rune hanno un effetto a tempo non si può per forza insomma forzare la runa per sempre le situazioni nella vita cambiano quindi se proprio vi piace ve la fate con il pennarello un po tipo questi qui no che durano un pochino di più oppure ve la tatuate con i tatuaggi semi permanenti tipo quello all'enne per esempio in rosso rosso vivo non mi ricordo se nell'enne c'è però c'è quel terracotta quel marroncino rosso avete capito qual è quel colore un po terracotta mattone ecco va bene che dà sul rossiccio prendete quello semmai come n perché l'enne dopo 15 giorni più o meno tre settimane dipende un po da quanto lavate la zona insomma dipende no quello sarebbe l'ideale non vi fate i tatuaggi proprio quelli per sempre assolutamente mi raccomando non lo fate va bene quindi o ve lo disegnate o ve lo fate con l'enne che se ne va dopo un po e ve la potete anche disegnare quando va via va via quando sentite di voler essere protetti con il pennarello rosso questo è quanto quelli che vogliono fare comunque questo esercizio questo rituale adesso passiamo al rituale con la genesa la genesa allora si può fare per altri sicuramente lo chiederete si può fare sì per altri mettete il nome alla fine in uso un converto algiz nome e cognome che è la runa che ha scusate sì la la genesa per se stessi sul lato quadrato per gli altri sul lato triangolo un'ora al giorno come sempre non di più poi lo togliete no per voi non serve il nome in uso un converto algiz punto per altri quindi sul lato triangolo in uso un converto algiz nome e cognome si può fare per gli altri ma sempre attenzione vabbè che è una formula di protezione non andiamo a forzare niente quindi quindi si può fare certo che sì quando non si va a ledere il libero arbitrio lo dovreste ormai chi è studente sapere da solo questa cosa perché quando si capisce che la formula non va a ledere nulla dell'altra persona certo che si può fare per un'altra persona quando si va a chiedere invece proprio qualcosa per esempio voglio semplificare la strada a tizio e no perché noi non possiamo fare questa cosa mica siamo il divino noi no se la strada deve essere quella per quell'anima voi non avete il diritto di andare a modificare la sua strada questo si dovrebbe un po capire già insomma chi è un pochino più esperto no quindi questa si può fare anche per chiedere protezione ad altri come facciamo mettiamo che la facciamo per noi stessi no prendiamo o il post it classico oppure un foglietto io ho preparato un foglietto perché mi piace il foglietto quadrato rigorosamente quadrato pennarello rosso stampatello grande ve la scrivo quindi se per noi in usum converto al giz in uso un converto al giz volendo si può scrivere anche in fondo un grazie 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 volendo è o duco buon fine comunque non è importantissimo devo essere sincera la formula importante in uso un converto al giz quindi ripeto per noi stessi così prendiamo lato quadrato prendiamo un supporto che ci faccia stare il foglietto abbastanza al centro della nostra genesa lo posizioniamo qua in uso un converto al giz grazie 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 lo lasciamo un'ora al giorno così per un po di tempo vedete voi quando vi sentite un po sotto attacco no potete lasciarlo diverso tempo questo è per voi questo è rituale poi se è per altri lato triangolo in uso un converto al giz nome e cognome della persona ecco qui lato triangolo un pochino più stretto è e ce lo mettiamo sopra in uso un converto al giz nome cognome grazie 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 un'ora al giorno lato triangolo per gli altri lato triangolo va bene anche se ci sei tu dentro insieme ad un altro nel senso voglio proteggere me e mio marito oppure me e mia figlia o me e mia sorella per dire no allora lo puoi fare sul lato triangolo se ci sei anche tu allora tu da sola è meglio sul lato quadrato però se siamo in coppia o vogliamo proteggere una coppia dove ci siamo anche noi ovviamente in questa coppia ci possiamo mettere anche noi sul lato triangolo ovviamente facciamo nome e cognome nostro nome e cognome dell'altra persona se siamo più persone dentro si può fare anche per tre persone per quattro persone sul lato triangolo va bene questo era la prima e più importante che vi volevo dare ricordatevi anche che ve le potete fare con i tatuaggi semi permanenti addosso non definitivi mi raccomando oppure voi col pennarello va bene ve la fate nei posti e quando va via va via pazienza si vede che anche quando deve terminare quando dice uno basta non serve più se ne va da sola quindi io farei fare molto sempre alla luce questa cosa perché tutto ha un motivo allora adesso partiamo me ne do anche altre anche queste possono essere inserite in genesa oppure no potete sia recitarle basta oppure inserirle in genesa sempre un'ora al giorno mi raccomando un'altra formula per diciamo togliere della negatività addosso o anche se voi pensate che vanno fatti dei lavori ma la maggior parte di quelli che pensano che sono stati fatti i lavori un buon 80% non ce l'hanno eh quindi attenzione a trovare persone oneste che vi fanno una buona diagnosi perché molti sono autoconvinti che hanno le fatture da tutte le parti del mondo e invece non ce l'hanno devono solo stare molto calmi pregare decretare calmarsi perché tanti non ce l'hanno ve lo posso assicurare se cascate in mani dei soliti ciarlatani che ci sono in giro ve ne trovano quattro ve ne hanno fatte quattro ve ne hanno fatte tre cinque dieci tu tuo figlio tutta la tua famiglia e dai giù giù con soldi 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 attenzione a queste cose allora vi do una formula gratis per togliere eventualmente se pensate di essere diciamo vittime di qualche diciamo fattura ma l'occhio molto pesante fascinazione pesante quella sorta di di come per dire mi sento proprio aggredita aggredito continuamente no mi riprendo e poi di nuovo ricasco ecco della serie sempre così allora dovete dire questo sia in genesa ma anche no se per voi fate questa che vi dico sempre dalle tre le cinque volte al giorno tre volte al giorno in tre momenti diversi tipo tre o cinque volte la mattina tre o cinque volte il pomeriggio tre o cinque volte la sera se per altri ascoltate bene aggiungiamo il nome cognome dopo la prima frase cioè così pulizia reddo nome cognome et carminem reprimo et tollo tipo voglio togliere perché secondo me mio figlio è stato attaccato per esempio no ecco quindi pulizia reddo nome e cognome et carminem reprimo et tollo quindi tre o cinque volte anche in questo caso è molto valida questa molto molto valida poi ve ne do un'altra diciamo l'ultima per oggi poi il prossimo vi ho trovato un codice sacro stupendo seguitemi perché ve lo metto fra poco questa formula allora si lavora sempre solo con la luce sapete che rimandare indietro le cose non si fa sapete che l'universo ha un equilibrio perfetto tutto ritorna sempre alla matrice e ritorna sempre alla fonte quindi attenzione a maledire attenzione ad augurare il male attenzione a tutto questo ma molti dei miei studenti già lo sanno però lo dico perché è fondamentale questo questo che sto per darvi adesso fa un po' specchio quindi diciamo tornerebbe un po' indietro effettivamente ma non per vostro comando torna indietro proprio perché si specchia quindi fa un po' da specchio e inevitabilmente torna indietro però non ci dovete mettere l'intenzione di far tornare indietro perché questa parola la fa da sola questa cosa attenzione però non desiderare il male altrui questo è molto importante è una parola che vi specchia quindi inevitabilmente quindi non è vostra intenzione perché se no poi tanto la pagate pure voi inutile ok quindi senza intenzione di danneggiare a nessuno dice io mi proteggo quindi non è colpa mia se poi ti torna indietro va bene della serie ma chi te l'ha fatto fare di mandarmelo no ecco un po' così anche dai per stramatizzare un pochino no allora fa da specchio comunque quindi torna indietro allora questa cosa per difendersi dal male è sempre una parola magica sempre di cristiano tenca bravissimo è molto veloce è molto veloce effetto immediato fa questo questo specchio protettivo attorno a voi che la recita quindi riflette alla fonte c'è la stessa cosa che vi stanno mandando la rimanda alla fonte non crea negatività di ritorno a voi va bene perché arriva proprio in modo naturale non vi crea una negatività di ritorno però cavolo cioè non permette che venga fatto del male insomma a te dalla persona che recita questa cosa questa parola vi scherma chi la reciterà va bene allora qui non ho trovato indicazioni si può fare per altri ma penso di sì di solito l'autore stesso cristiano tenca mette il nome alla fine quindi prima la parola magica e poi il nome alla fine pertanto seguiamo le indicazioni sue io penso che si possa fare secondo me però magari non so adesso se trovo qualche altra informazione dove dove lo scrive vado più sicura ma se lui non lo scrive io non mi permetto ok di cambiare le cose degli altri ho molto rispetto del lavoro altrui e cito sempre le fonti cosa che non fanno tutti per esempio mi hanno detto in tanti che prendono i codici sacri o le preghiere dal mio canale poi le vanno a mettere altrove io ecco perché metto sempre comunque anche sopra la scritta no quella impressione che vedete molto molto tenue perché comunque rubano in continuazione no senza dire dove l'hanno presa di chi è che poi tra l'altro le cose molte non sono le mie nel senso io le riporto a voi però lo dico di chi sono invece altri no le vanno a prendere rubano e via insomma non va bene questa cosa no quindi contribuiamo tutti perché la nuova era tanto ci può stare solo chi ovviamente non fa queste cose cioè già già da qui uno capisce com'è la persona perché se uno ha visto il mio canale e poi va a vedere un altro canale che ruba le cose del canale mio che poi magari non so manco le mie però quantomeno io lo dico di chi sono no perché è materiale a disposizione di tutti quindi si può divulgare però per educazione per rispetto per questioni anche di copyright alcuni no non si può fare così va bene quindi che persona è quella se voi trovate un video e vedete le stesse cose di un altro già dovete capire che dovete cancellarlo non lo dovete guardare perché già solo uno che copia già vi fa capire in che energia è quella persona va bene allora la parola per riflettersi appunto per specchiare proprio la cosa che vi stanno mandando quindi ritorna indietro in modo naturale senza problemi per voi né negatività per voi è speculum sum speculum sum speculum sum la vedete scritta speculum sum dalle tre alle cinque volte al giorno anche questa in tre momenti diversi della giornata sono tutte parole che vi aiutano questo è in modo particolare soprattutto quando ci sono quegli individui che continuano no a dar fastidio in continuazione quindi se proprio uno se la va a cercare come dicevo prima ma chi te l'ha fatto fare tu te la stai cercando io mi difendo se permetti è questo il concetto quindi non c'è cattiverio in voi che vi difendete e non è colpa vostra se poi la cosa gli torna indietro ecco perché è bellissima questa parola perché non vi crea karma negativo sapete che quando si manda indietro si crea del karma e voglia uno a dire io mi sono tolto la fattura e poi quell'altra torna indietro e ho capito ma non si fa così non si manda indietro perché tanto il karma ve lo mettete voi addosso invece questa perché è bella perché ve la propongo perché non ha controindicazioni per chi la fa fa proprio uno scudo naturale quindi non è colpa mia se io recitando ti ritorno indietro spero che mi so spiegata il concetto è della serie ma a te perché me l'hai fatta ecco è questo il discorso principale che vi volevo dare oggi quindi queste sono le parole magiche per voi che potete dire anche senza la genesa va bene anche senza la genesa le dite e basta chi vuole le può inserire tutte quante con il fogliettino questa era la formula in uso un converto algiz che era proprio con la runa algiz bellissima di protezione grandissima vi ricordo disegnatevela pure se volete mi raccomando le rune in rosso allora adesso adesso vi faccio scegliere due carte o la 1 che metterò a sinistra o la 2 che metterò a destra dei miei messaggi divini e andiamo a vedere qual è il messaggio oggi per voi vediamo condividete pure questo video eh con chi sapete che può servire vediamo che messaggi devono arrivare qui e ora carta numero 1 è questa e questa è la numero 2 vediamo che cosa viene fuori per voi in questo momento chi ha scelto la carta numero 1 che messaggio ha via il vecchio avanti il nuovo numero 55 cambiamenti vantaggiosi in arrivo eccolo qua quindi qua niente c'è da tagliare fuori le cose ricominciare la fase 2 come dico molto spesso io della vita quindi prima con il velo abbassato dove non vedevamo non capivamo ora che ci siamo svegliati dobbiamo andare avanti con il nuovo andate a vedere la playlist numeri degli angeli con il numero 5 e anche il 55 qui arrivano anche dei cambiamenti vantaggiosi però è necessario anime staccare dal vecchio perché sennò è inutile perché stando nella vecchia energia che cosa succede succede che non si dà apertura al nuovo non fate in modo di far fluire è come se mettete un coperchio no dovete stappare stappate in modo che questo buco si apra e possa fluire questa energia nuova va bene quindi cominciamo a tagliare perché è importante vediamo adesso il messaggio 2 guardate chi c'è io sono luce io sono amore io sono verità io sono numero 7 mistico per eccellenza il maestro acceso Saint Germain ti invita a recitare spesso questo potente mantra eh avete visto ma quante volte succede quando faccio queste cose particolari con rituali parole magiche codici sacri che viene fuori lui perché perché lui è il mago la fiamma viola il settimo raggio viola la trasmutazione anche la magia no l'alchimia quindi questo mantra è la forma diciamo più breve più nuova dell'io sono quello più lungo va bene anche questo va bene anche se reciti l'io sono più lungo che è proprio insomma che devo dirvi proprio la colonna quella è quello è proprio il massimo questa è la versione più lungo più corta proprio del mantra io sono ed è importante veloce diretto immediato si ricorda anche molto bene a memoria ci è venuto a salutare il maestro acceso Saint Germain e lo prendo proprio per un messaggio questo di proprio positività e lo prendo come un sì ok perché io lo sento quando è così come per dire ok hai dato il messaggio giusto me lo prendo anche sul personale perché quando viene attraverso di me qualcosa del genere ed è per voi ed è per il collettivo lo prendo anche come ok come quando il maestro ti dice bravo hai fatto bene il compito una cosa del genere no quindi ricordatevi questo qui il numero 7 con questo mantra che ci ha dato proprio la conferma che stiamo stiamo facendo bene in questo momento in questo video e va bene così quindi anche la prendo per una buona fortuna che funzionerà a tutti quanti poi fatemi sapere ovviamente sotto ripeto non rispondo a domande delle quali ho già parlato nel video perché vuol dire che uno non ascolta quindi non è ammesso qui ci vuole un percorso serio teste serie chi ha voglia di studiare studia chi viene qui a giocare non trova non trova accoglimento mi raccomando non giocate con le rune non giocate con le rune le rune si studiano va bene e siate certi prima di fare le cose è molto importante queste sono tranquille quelle che vi do io sono sempre cose che potete fare tranquilli state tranquilli quindi fatelo tranquillamente sia con la runa che con le altre parole magiche che vi ho dato poi dopo va bene questo era quanto arriva presto un altro codice sacro molto importante è molto carino per voi quindi continuate a seguirmi iscrivetevi al canale chi vuole si può anche abbonare e andate a vedere anche il sito web che anche lì ci sono tante informazioni per voi per il momento è tutto fatemi sapere poi come va venite a scrivere sotto questo video non altrove così anche le testimonianze delle persone sono importanti un po' come sono anche sotto gli altri decreti avete visto quante testimonianze abbiamo sotto quello di razze sotto quello dei codici sacri ce ne abbiamo tantissime andate a leggere grazie mille anime ancora di essere stati un po' insieme a me qua oggi di esserci fatti un po' compagnia ci vediamo presto vi aspetto qui su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti grazie